Il cerchio nel grano che compare ad Eccling Dyck, Sixpeny Endly, Dorset, 4 giugno 2018. Questo è un campo, una zona molto importante perché un paio d'anni fa in questo campo sono comparsi due cerchi nel grano antagonisti, il cerchio nel grano della Santa Vergine e il cerchio nel grano dell'Anticristo, a significare che c'è lo scontro tra le due forze. Il cerchio è quello della locandina ed è questo qui, bellissimo, e adesso vi spiego il significato. Praticamente, vedete, con la grafia otteniamo che il laser funziona, otteniamo un angelo che sta intorno alla terra. Sono sette angeli e gli aspetti grafici, quindi, ci indicano che si riferisce alla profezia dove ci sono i sette angeli. E i sette angeli, nell'Apocalisse, entrano in azione all'apertura del settimo sigillo, ad opera dell'agnello. L'agnello è ovviamente Cristo. Andiamo a leggerlo, Apocalisse 8, versetto 1. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe. E andando ad analizzare a quale situazione profetica scatenino le varie trombe, troviamo che la tromba suonata dal sesto angelo ha una grande attinenza con la situazione geopolitica attuale, perché la profezia, amici, non è un fatto religioso. La profezia anticipa ciò che, in base al dare e all'avere delle azioni umane, accadrà nel futuro. Cioè è un pronostico come le previsioni del tempo, fatto da menti evolutissime. Quindi chi deve decodificare il cerchio nel grano deve cercare un'attinenza con la storia attuale, perché i cerchi nel grano sono oggi soprattutto un messaggio profetico che ci dice, ci indica in quale parte dell'Apocalisse stiamo vivendo o stiamo per iniziare a vivere. Il sesto angelo, quindi il cerchio si riferisce ai sette angeli e andando a vedere nell'Apocalisse dei sette angeli quale è la situazione maggiormente attinenti a quella attuale, lo troviamo con la tromba che suona il sesto angelo. E dice l'Apocalisse, il sesto angelo suonò la tromba. Allora udì una voce ai lati dell'altare d'oro che si trova dinanzi a Dio e diceva al sesto angelo che aveva la tromba, sciogli i quattro angeli incatenati sul gran fiume Ofrate. Furono sciolti i quattro angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per sterminare un terzo dell'umanità. Ma nonostante poi qui prosegue, ma alla fine dice il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli non rinunziò alle opere delle sue mani, non cessò di prestare culto ai demoni, agli idoli d'oro, gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno e il materialismo, cioè vivere per la materia, che non possono né vedere questi idoli né udire né camminare, quindi non hanno lo spirito e nemmeno l'umanità rinunziò agli omicidi, alle stregonerie, alla fornicazione e alle ruberie. Che significa questo amici? Cause ed effetto. Cioè questi castighi che vengono sciolti dagli angeli che suonano la tromba sono l'effetto delle devastanti cause poste in essere dall'agire dell'uomo. Non sono punizioni di Dio, chi di spada ferisce, di spada per i Ra. Chi sono questi quattro misteriosi, scusate, sì, quattro misteriosi angeli incatenati al fiume Eufrate? Andiamo a vedere una cartina del fiume. Queste le Eufrate e i quattro angeli sono l'Iran, che è bagnato qui dalle Eufrate, l'Iraq, la Turchia e la Siria. Quindi ci sta parlando di una guerra che è già in atto in Medio Oriente. Il settimo angelo suonò la settima tromba. Queste sono tutte, diciamo, il numero sette ripetuto nella Bibbia. Quindi abbiamo sette angeli, sette trombe, sette coppe, sette piaghe. Il sesto angelo suona la sesta tromba e versa la sua coppa sopra il gran fiume Eufrate ed è vicino al fiume Eufrate che avviene e radunarono il re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Noi aspettiamo la battaglia di Armageddon. Dov'è l'Armageddon? Quindi il cerchio nel grano ci sta indicando quella zona Medio Oriente dove accadrà la battaglia di Armageddon che coinvolgerà anche quelle nazioni, i quattro angeli che sono la Turchia, l'Iraq, la Siria e l'Iran. Andiamo a cercare l'Armageddon e l'Armageddon è Israele, il luogo dove è nato Cristo, è operato. Infatti l'Armageddon indica il monte Megiddo, il cui antico nome era Ar-Megiddo, Ar-Mageddon. Quindi lo scenario è il Medio Oriente che è in fermento. Adesso vogliono di nuovo fare un falso attentato perché l'America e l'Europa non accettano che la Russia, l'Iran e la Turchia si stanno spartendo grazie alla sconfitta dell'Isis, che era un burattino nelle mani della Nato creato da loro, si stanno spartendo quell'importantissima zona Medio Orientale. Quindi il cerchio nel grano ci dice che sta per scatenarsi quello che sottende al suono della sesta tromba e accadrà in Medio Oriente. Se noi continuiamo la lettura dell'Apocalisse, vedete, il settimo versò la sua coppa nell'aria e uscì dal Tempio, dalla parte del trono, una voce potente che diceva è fatto. Quindi siamo vicini alla battaglia di Armageddon, siamo vicini alla fine dell'Apocalisse, cioè siamo alla fine dei tempi. Cosa che fu già detta nelle apparizioni di Garabandal dalla Santa Vergine, alla veggente Concita Gonzales, viene chiamata la profezia dei tre papi e la Madonna disse alla veggente che dopo la morte di Papa Giovanni XXIII ci sarebbero stati altri tre papi e poi sarebbe iniziata la fine dei tempi. I tre papi sono stati Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quindi Papa Ratzinger è stato il primo Papa della fine dei tempi, Papa Francesco II ne manca solo uno all'appello. Poi il tempo finisce, nel senso che finisce il tempo concesso all'umanità per realizzare i valori della pace, dell'amore, della fratellanza nel nostro pianeta. Prima ho dimenticato di dire che quando uscì questa croce di sfere abbiamo realizzato una gigantaurafia che abbiamo attraverso degli amici posto nelle mani di Papa Benedetto e l'abbiamo consegnata perché lui sa che cos'è, che cosa significa. Infatti nell'ultima fase del suo pontificato Papa Benedetto si è messo a fare cose diverse da quelle che faceva prima. Quindi evidentemente il messaggio l'ha capito. Poi compare un altro cerchio nel grano a Devil's Den. Oggi ho ricevuto un bellissimo dono, per me è un segno di una spiga presa da questo cerchio nel grano. Cerchio nel grano che amplifica e sottolinea il messaggio del cerchio nel grano precedente. Questo è il cerchio nel grano, lo evidenziamo graficamente, vedete ci sono sette coppe disegnate. Quindi il programma si aggancia al precedente sottolineando che stiamo entrando nella parte delle sette coppe che versate una a una indicano la punizione dell'umanità, le sette piaghe che puniranno l'umanità per le sue bestemmie, le sue fornicazioni e la sua disubbidienza alla legge. E il fatto che compaia in questo campo, queste sono cose che a volte i creatori dei cerchi usano, perché Devil's Den vuol dire il covo del diavolo. Qual è il covo del diavolo? L'umanità. E quindi l'umanità sta per essere punita per le sue blasfemie. Quindi non è religione, amici, è scienza. Noi uccidiamo e verremo uccisi, noi avveleniamo e saremo avvelenati, noi odiamo e verremo odiati. Non esiste la religione. È servita l'umanità, bambina, che aveva bisogno che Dio e il Padre le parlasse attraverso l'emotività, la fede. Ma oggi l'umanità è adulta, possiamo capire finalmente la scienza che spiega la natura trascendente della creazione dell'essere umano. Una bella notizia, vuol dire che siamo davvero scientificamente eterni. Noi siamo lo spirito intelligenza eterno, ma siamo soggetti a leggi e sono queste leggi che ci fanno tutti quanti, a prescindere dai credori religiosi, nascere, crescere, invecchiare e morire. I credori religiosi hanno esaurito il loro compito, consegnando alla storia un mondo in sfacelo, una umanità divisa che odia e uccide tutti i santi giorni nell'indifferenza generale. Non è possibile. E i complici di questo sfacelo siamo noi, il popolo, perché siamo ignavi, siamo codardi, siamo indifferenti e Dio ci punirà. Grazie a tutti.